Quindi, presendo l'icono di lavoro, ho questo menu, in cui posso eseguire millimetri di inchi e inserisco e cambiare il valore, presendo ok. Quindi, in questo momento, se voglio fare 240 millimetri, o altrimenti, cambiare e tornare a 12 in. Il numero di fasi per ogni staccia, e la macchina fa un speed-up del convegno del valore, per separazione di lavoro. Il numero di fasi per ogni staccia, e se avete una funzione di descendo, puoi impostare anche i due parametri per la frequenza di descendo. Quindi, in questo caso, ogni 20 volte, i motori riusciano per un po' di seconda. Qui puoi eseguire GAP o MAC Sensor, in modo che con la specifizia di lavoro. Questo è il Sensor MAC Sensor, con una luce blu, e questo è il Sensor MAC Sensor, per i livelli, come in questo caso. Lo scelgo di nuovo. Lo scelgo. Lo scelgo. Lo scelgo. Ma comunque, vi mostro gli altri parametri. Il tempo di staccia in secondi, per esempio, un secondo, è il speed-up del convegno del convegno del presegno del presegno del presegno del presegno. Il punto di vista, questo mostra la combinazione del presegno del presegno. Quindi, qui avete i numeri, qui avete le lettere, A, B, C, e qui avete l'angolo. Quindi, con i 12 inci, 4 strade, 304.8, avete B7, in questo caso B7, e con l'angolo, si scelgo, si scelgo questo scelgo e prendendo il funnello, aiutare il pulsante lecce e il controllo della chiave. Oggi piacere lecce e il punto di vista della chiave. ancora, il screw qui. Le altre commande di questo convegno sono le spazio del tumbo e la meno il spazio del presegno, quindi, il setio del presegno del presegno sono questi due spaziosi. press button the potenziometer speed control is available only when the machine is offline production type in this case otherwise with the encoder it doesn't work because the machine goes together with the press this selector is the four is important it is a folding folding setup so when I have power on so with the old door closed off and power on I can open also the door and show you forward and backward in this case and I adjust the beater position to find the right hitting point of the beater about half inch 20 millimeters after cross perforation so this is the fold the selector this is jog so with this press button I can go with feeding the paper and also the movement of the folding arms and bitters and this one is start for automatic when all doors are closed and with the safety on and this is the stop the two commands are also here save all data turn back when all door the same commands are also here start and stop